ed eccoci qui dovremmo esserci dovrei essere online in questo momento speriamo che si senta tutto correttamente aspetto vostra conferma in chat come al solito anche perché come sempre nel 2020 ancora combatto con la team iliad e contemporaneamente anche la team di casa quindi combatto sempre con la connessione quindi è sempre un mondo bellissimo e il ppp dunque vediamo un pochettino riuscite a sentirmi riuscite a sentirmi vediamo un po faccio anche un test direttamente qui online vediamo un po vediamo un po se mi sentite saltiamo l'annuncio ok direi che ci siamo perfetto accordo allora a questo punto in effetti possiamo iniziare con la nostra sessione e affrontare insomma il tema di oggi ovvero un momento particolare che ogni anno in effetti coinvolge un po tutti quanti noi e ci spinge in qualche modo a valutare i nostri acquisti e banale dirlo ma è ovvio l'appuntamento di questa sera è un appuntamento a mio avviso molto importante non tanto perché io debba convincervi a comprare alcunché tanto più che nella lista di link che sto condividendo da giorni come avrete notato non c'è nessun tipo di referral nessun genere di vantaggio economico nel condividere i tanti link e le tante risorse però diciamo che a conti fatti chi si occupa di formazione chi porta avanti anche su altri fronti una serie di servizi legati alla consulenza la crescita professionale dei singoli o di classi team eccetera inevitabilmente si ritrova poi a dover suggerire determinate risorse o strumenti che ci affiancano all'interno insomma della nostra quotidianità lavorativa a più livelli ebbene questo tipo di appuntamento non ha per scopo semplicemente quello di indirizzarvi verso le offerte migliori in realtà come ho scritto all'interno dell'articolo lo scopo di questo video lo scopo di questo webinar è molto più semplicemente un altro cercare di definire nel modo migliore nel modo più utile quelle che sono gli quelli che sono gli strumenti alcune volte degli standard altri degli strumenti innovativi diversi alternativi eccetera al fine di offrire un panorama un po più chiaro un orizzonte creativo diverso anche perché tante volte ci fossilizziamo sui titoli più noti e dimentichiamo l'esistenza o disconosciamo del tutto l'esistenza di titoli software e risorse che ci possono assistere nel flusso di lavoro quotidiano tanto quanto possono essere dei validi alleati in quella che è l'ottimizzazione del nostro flusso lavorativo gran parte delle risorse in effetti hanno per scopo quella di velocizzare la fase di realizzazione la fase produttiva la fase creativa ed è a questo scopo che all'interno della lista mi sono concentrato soprattutto in quello che è il mio segmento di mercato diciamo così ovvero il mondo della creatività il mondo comunque dei degli artisti dei digital artist degli illustratori dei fumettisti e perché no anche dei fotografi dei videomaker dei motion designer e compagnia bella in generale dall'interno della lista di linkedin ho voluto integrare quelle che per me erano le risorse migliori che non in tutti i casi ovviamente utilizzo in prima persona ma cerco sempre di mantenere comunque delle indicazioni attendibili in modo tale che possa quell'elenco essere utile anche a quelle figure che sono decisamente oltre la mia superiore alla mia o di altro genere in ogni caso questo tipo di webinar dunque serve a definire un orientamento chiarito questo passaggio abbiamo visto come di anno in anno bene o male l'offerta sia tutto sommato costante durante l'anno capita che ciascuna delle software house che andremo a vedere indicare le scuole online eccetera eccetera ci propongano i loro sconti si avvicini il natale per cui anche in occasione del natale anche in occasione del compleanno tra virgolette dei festeggiamenti annuali di ogni software house diciamo che per sommi capi gli appuntamenti durante l'anno esistono solo che sono un po difficili da seguire in tempo reale nel senso che ogni software house ogni entità ogni azienda ogni brand decide in totale giustamente autonomia quando promuovere i propri servizi nel momento invece del break flight seguito a ruota dal cyber monday si concentrano la maggior parte delle offerte e diventa anche un pochettino più complesso riuscire ad individuare in maniera concreta quali possono essere le risorse adatte a noi in rapporto ovviamente al budget che abbiamo a disposizione ecco il perché il mio scopo nell'illustrarvi ciascun ciascun coupon ciascuna offerta non sarà solo quella di consigliarvene l'acquisto ma di spingervi a tenere quel quei link quelle risorse all'interno del vostro archivio poiché potremmo aver necessità di usufruirne e momenti più diversi durante il corso dell'anno oppure in alternativa come ho segnalato anche all'interno dell'articolo magari è possibile diciamo potrebbe interessarci seguire la playlist che ho generato all'interno di twitter la lista twitter il nome più corretto è questo dove ho raccolto gran parte dei brand tutti quelli che avevano un account twitter e li ho inseriti in questa lista che viene aggiornata in tempo reale ed è anche un modo che io stesso utilizzo tante volte per tenere sotto controllo le proposte diciamo dei vari marchi di valde vari piattaforme dei vari canali ricordiamoci che ovviamente un professionista non non è definito dal quantitativo di risolvere di cui si serve semplicemente un professionista dà valore al tempo speso nel realizzare un progetto nel realizzare un elaborato un qualcosa va da sé che ottimizzare quella fase progettuale aiuta la figura creativa a rendere più fluido il processo di creazione il professionista ad a limitare i tempi di sviluppo e quindi ottimizzare anche i costi del suo servizio in certi casi determinate piattaforme ci aiutano anche ad includere nel nostro flusso di lavoro strumenti che diversamente magari non sapremmo realizzare con i software che siamo abituati a sfruttare e c'è di più osservando le varie piattaforme potreste anche notare degli elementi ricorrenti che diciamo da uno o due anni hanno iniziato a fare capolino in modo deciso all'interno dei vari marketplace mi riferisco nella fattispecie agli oggetti tridimensionali agli oggetti 3d attenzione il 3d è sempre esistito la professionale della professione del 3d artist è una professione a sé stante complessa ricca completa se vogliamo eccetera eccetera in questo caso però quando parlo di oggetti 3d mi riferisco ad una dimensione un po' differente ovvero moltissimi marketplace sono andati in una direzione che è l'ideale per tutte le figure professionali che vogliono inglobare all'interno del loro flusso di lavoro quel tipo di formato sfruttandolo attraverso software non canonici in ambito 3d mi riferisco ad esempio ad adobe dimension che è il software che mi avete visto tante volte utilizzare mi riferisco però anche alla componente 3d di photoshop ugualmente valida mi riferisco anche ecco ad esempio riguardo il 3d adobe dimension e photoshop vi ricordo che un video che poi probabilmente caricherò anche su youtube ma non so quando e si trova all'interno del mio profilo nella sezione video ed è proprio un flusso di lavoro spiegato e raccontato attraverso tutti i software che vedete all'interno della copertina e in quel contesto vi mostro effettivamente in che modo includere velocemente quel tipo di formato ripeto nel nostro flusso di lavoro quotidiano e oltre adobe dimension oltre photoshop 3d in effetti questo tipo di formato comincia a far capolino in tante chiavi di lettura diverse o comincia ad essere ad esempio gestito anche ad esempio nella post produzione creativa o nelle realizzazioni dei digital dei digital artist parliamo di digital environment digital painting eccetera sotto forma di un miglior posizionamento degli oggetti che ovviamente ruotati all'interno della scena possiamo effettivamente declinare secondo le nostre necessità al meglio rispetto alle sole fotografie o ai set di fotografie con le quali interagivamo senza contare che restano attive diciamo le funzionalità verso le quali ci stiamo sempre più muovendo vr ma soprattutto r ma di questo poi ovviamente ne parleremo in seguito cominciamo effettivamente subito perché c'è tanto da dire e non andremo oltre nell'ora e mezza di webinar quindi alle otto e mezza si chiude e prima di tutto come ho detto prima vi invito anche a memorizzare l'insieme di link che saltano fuori da quell'articolo che sto aggiornando quotidianamente in realtà già solo oggi l'ho aggiornato tre o quattro volte perché mi arrivano anche tante segnalazioni da da voi per cui chiaramente diciamo cerco di implementare il più possibile quello che è il diciamo la proposta all'interno del di questo elenco e mi soffermerò in alcune piattaforme un po' di più a rimarcarne il ruolo strategico per quelle che sono i diversi ruoli professionali e i diversi approcci diciamo del nostro ambito del nostro mercato il primo che ho voluto inserire che in realtà diciamo è già partito con cyber monday ma aspettiamo qualche novità è il circuito di envato envato è una delle entità più note uno dei marketplace più noti che ci mette a disposizione davvero di tutto di più chiaramente è uno anche dei più conosciuti quindi non dovrebbe essere necessario spiegare le tante risorse che troviamo al suo interno il consiglio quindi è semplicemente di andare a verificare laddove si abbia la necessità di un nuovo tema per wordpress o per il nostro sito di template per after effect di risorse per photoshop illustrator don plug in e quant'altro diciamo che in quel contesto in generale la l'utilità è duplice perché da un lato possiamo valutare risorse da acquistare dall'altro ebbene anche valutare quelle che possono essere una serie di funzionalità che poi scopriremo ritrovarsi all'interno degli altri canali anche l'analisi delle tendenze per noi è fondamentale quando andiamo a osservare tali piattaforme e ciò che esse contengono però dicevo che è invato market a parte l'essere l'entità nota che ancora ci fa attendere sul fronte di della piattaforma che ha lanciato un paio di anni fa ovvero sia invato element per quanto mi riguarda come dico sempre alle mie classi per me invato element rappresenta e intanto una piattaforma in abbonamento di solito costa sui 192 195 dollari l'anno euro l'anno adesso non ricordo durante il black friday o periodi adecenti tende a costare circa il 30 per cento in meno io personalmente da quando è uscita mi ci sono abbonato subito e non me ne sono mai pentito già che è una bella piattaforma con un sistema di licenze assolutamente adeguato al costo che però contiene una miriade di risorse costantemente aggiornate che sono tutte quelle che stiamo osservando anche a schermo significa che in effetti qualunque professionista potrebbe decidere di dotarsi di una piattaforma come questa e risolvere gran parte delle proprie necessità quotidiane si va dai video iphone template ai che ne so alle librerie grafiche alle fotografie agli elementi 3d anche se in questo caso il 3d e di quel tipo ideale per la post produzione ispirato diciamo comunque ha ispirato un tipo di tecnologia un tipo di 3d diverso da quello che potremmo aspettarci ovvero come pixel squid ci insegna pixel squid ancora non ha pubblicato una sua offerta almeno fino a ieri adesso devo controllare se oggi ha integrato qualcosa pixel squid e questa funzionalità 360 semplicemente ci mette a disposizione una serie di scatti dell'oggetto da poter implementare all'interno della nostra scena non è il suo non sono le sole piattaforme ma comunque restano effettivamente diciamo un buon modo per migliorare la resa dei nostri progetti e soprattutto rendere un po più personale la nostra creazione visto che l'ho citato facciamo anche vedere pixel squid che fa parte del network squid dove ritroviamo anche turbo squid e un altro nuovo che adesso non mi ricordo e pixel squid fa esattamente la stessa cosa in abbonamento e come dicevo aspettiamo magari di vedere se da qui al black friday magari andrà a introdurre una sua offerta vale la pena comunque dargli un'occhiata e conoscerli per i motivi che ho fin qui già descritto e abbiamo poi ovviamente mockup con mockup zone e artboard i mockup ovviamente sappiamo tutti che cosa sono artboard studio invece è in pratica un vero e proprio software vediamo se riesco a chiudere la finestra è un vero e proprio software all'interno del quale diciamo ci si occupa esclusivamente di allestire le cosiddette scene in realtà nei marketplace cercando il termine chiave scena saltano fuori tutta una serie di kit di solito in photoshop a livelli attraverso il quale possiamo organizzare ciò che ci interessa la nostra scena e creare comunque post di varia natura immagini con soggetti con uno storytelling particolare frutto della presenza di tutti i vari elementi artboard studio e in pratica diciamo il software di mockup zone che ci permette di automatizzare questi passaggi andiamo avanti riguardo creative market dopo invato parliamo di creative market che un competitor di invato altrettanto ricco comunque diciamo contiene qualche cosina di diverso rispetto al classico invato e al suo interno notiamo effettivamente esistere un black friday che si traduce in queste categorie se volete esplorare tutto ciò che è contenuto dentro creative market non fermatevi nella prima pagina ma andate a cliccare all'interno di queste aree i pulsanti di vostro interesse in modo tale da poter eventualmente scendere nel dettaglio e verificare che tipo di risorse sono in saldo in questo momento ribadisco è un equivalente di invato ciao emiliano è un equivalente del marketplace invato però vi devo dire la verità spesso ho trovato delle realizzazioni un po diverse dal solito rispetto ad invato probabilmente la stessa cosa anche su invato ciascuna delle due piattaforme si accaparra comunque delle esclusive o le preferenze di alcuni autori quindi diciamo che vale la pena eventualmente esplorare anche questo genere di contenuti vale sempre al di là dello sconto quindi deve essere chiaro che ecco in generale non si parla esclusivamente di un momento di nel quale approfittarne il classico black friday eccetera anche perché a ricoprire tutte le offerte dovremmo avere non so quanti soldi da parte però vi devo dire la verità comunque anche io spero che comunque spendo un sacco di soldi su invato per me e per i miei clienti anche all'interno di creative market spesso e volentieri ho trovato delle finezze per esempio uno degli ultimi acquisti è stato questo bel set di pennelli per pro create di stile particolare quindi insomma abbastanza caruccio per realizzare il diciamo la tecnica del lettering in maniera creativa giusto per dare un input continuiamo a scendere nell'elenco a scorrere a scendere a scorrere nell'elenco ho voluto inserire anche pixel printing in realtà non è che abbia controllato tutti tutte le tipografie online semplicemente questa era l'offerta che mi era capitata in lista e l'ho voluto inserire e visto che ovviamente è un momento di cambiamento anche professionale storico per tutti potreva essere interessante usufruire di questo genere di sconto ecco perché l'ho voluta segnalare parlando invece di font quello dei font è un argomento estremamente importante poiché è uno di quelli più sottovalutati da coloro i quali non hanno idea del mondo che c'è dietro i font le famiglie di caratteri delle licenze d'uso e delle necessità di godere di una libreria sufficientemente ampia per sviluppare i nostri loghi marchi al meglio non che headline di ogni tipo e così via non voglio banalizzare non voglio essere tedioso però in questi momenti bisogna approfittare soprattutto di questo genere di risorse poiché la qualità delle nostre realizzazioni soprattutto quando c'è di mezzo un tipo di carattere dipende realmente dalla ampiezza delle nostre librerie per caratterizzare diciamo al meglio quella che può essere ogni nostra proposta e proprio sui font in tanti si perdono ignorano la problematica delle licenze che va a coprire tutta una serie di altri aspetti ci sarà poi un webinar successivamente legato alle licenze d'uso aggiornamento dell'articolo che scrissi nel 2018 per zuppa e lì vedremo che lato font ci sono delle particolarità da conoscere ho voluto iniziare con Zetafont che è una fonderia italiana dalla quale ho acquistato veramente tanta roba usufruendo dei vari sconti Black Friday di volta in volta eccetera eccetera e vi consiglio di dargli un'occhiata perché a parte gli sconti che arrivano su MyFont anche da Zetafont che arrivano su MyFont, Linotype e Fontshop proprio Zetafont ha in effetti lanciato anche il suo sconto personale che però qui non vedo effettivamente l'avevo inserito ma se andate sul sito di Zetafont, non so perché mi sia sfuggito dentro Zetafont è stato lanciato proprio all'interno del sito della fonderia italiana una proposta legata al Black Friday con sconti pari al 70% ero convinto di averla pubblicata invece no comunque questo è il post mi sarà sfuggito in ogni caso questo è il post e vi consiglio di dargli un'occhiata perché ne vale veramente la pena poi ciascun marketplace legato ai font ovviamente si muove in autonomia opera alle sue stesse scelte e ho visto che c'è una sorta di azione coordinata tra MyFont, Linotype e Fontshop con sconti e iniziative non solo sconti che vanno dal 30 all'80% dategli un'occhiata riconoscerete il banner in sovrimpressione all'interno di tutti questi siti è un banner giallo che fino a stamattina c'era ovviamente ha cambiato colore verde e collega insomma queste entità in questo senso dovrei approfondire ma credo che sia una ricorrenza o un qualcosa in comune in più vi segnalo un altro studio italiano Niccolò Maria Zanzi che come da Link vi mette a disposizione anche lui la sua produzione anche il suo studio non lui il suo studio la produzione come ZetaFont e FontFabric che invece mette 5 famiglie in offerta tra le proposte di natura grafica ho voluto includere anche alcuni kit che probabilmente faranno più gola magari agli inizianti, studenti, junior eccetera sono risorse e librerie nel classico formato mega bundle che però in alcuni casi ho voluto segnalare questi due perché studiandomi il kit ho visto che il rapporto al prezzo potrebbe essere un ottimo starter kit per tutte quelle figure che appunto hanno bisogno di arricchire velocemente e con la minima spesa le proprie librerie qui parliamo soprattutto di effetti speciali quindi effetti da applicare in sovrapposizione o decorativi dei nostri contenuti siccome anche la risoluzione promette bene suggerisco di dargli un'occhiata un'ottima alternativa agli abbonamenti annuali allo stesso modo il secondo link in più non è ancora uscita un'offerta specifica ma uno dei creativi che preferisco dal quale intanto intanto attingo una serie di risorse è Rule by Art il quale contiene una serie di proposte davvero sfiziose l'ultima che ho preso per esempio è questa si chiama Mineral e la sua produzione è veramente piuttosto intrigante perché i soggetti che lui offre si prestano a una serie di interpretazioni questi sono alcuni dei soggetti ma a voi lo scopo poi di andare a esplorare il suo catalogo tenendo conto che tutta la sua produzione è comunque di alta qualità e soprattutto in alta risoluzione presupposto assolutamente necessario e non scontato più in basso Boris FX che è ovviamente una suite di software e di titoli per la post-produzione creativa in formato video, immagine eccetera eccetera che ci propone un suo 50% di sconto tra l'altro ha da poco lanciato Sapphire la versione 2021 che è comunque un bel software da tenere in considerazione e visto che parliamo di Boris FX vi ricordo anche che se non l'hanno tolto Boris FX è anche colui il quale ci metteva a disposizione gratuitamente la versione stand alone di Particle vatte la pesca vediamo dove si trova se c'è ancora visto che è un software gratuito per generare effetti è Particle Illusion sì e la versione stand alone è ancora gratuita per cui dategli un'occhiata perché diciamo è un ottimo software diciamo è un software generativo per effetti visivi ripeto è gratuito, è stand alone e insomma dategli un'occhiata e passiamo oltre scendiamo e passiamo al mondo dei 2D e 3D artist intanto vi chiedo se in chat riuscite a sentirmi bene perché ogni tanto ho la suite qui di lo studio la cabina di regia come la chiama YouTube che mi dà strani segnali mi sentite bene? vedo ci sono sei persone vediamo se c'è qualcuno che riesce a rispondermi ditemi se l'audio è fluido il video si vede bene o se c'è qualche problema tecnico come sostiene il caro YouTube cosa non strana ah ciao Evan ho inserito i due titoli che mi hai linkato adesso sono sotto li ho inseriti prima della diretta ah ok ok perfetto grazie Mono allora parliamo di mondo 2D e 3D una piccola specifica prima di tutto il 3D è roba seria il 3D non è un'approssimazione non è un giocattolo nel senso dei suoi formati non sono un giocattolo io non sono un 3D artist semplicemente utilizzo alcuni oggetti 3D includendoli al meglio delle mie possibilità nel flusso 2D il che significa che un 2D artist può comunque implementare oggetti 3D purché come dico tante volte non confonda l'utilizzo di Adobe Dimension e software analoghi al lavoro del 3D artist o al ruolo del 3D artist lo dico soprattutto per tutti i nabbi junior studenti affini in questo senso io però faccio larghissimo uso di oggetti adatti al mondo 3D e di conseguenza seguo tantissimi canali ve ne segnalo un paio poiché quegli oggetti gestiti come nel video di Beans che vi ho linkato potrebbero diventare una interessante leva creativa per il nostro flusso di lavoro iniziamo da Kit Bash Kit Bash 3D è in pratica un canale che vi offre dei kit a tema piuttosto intriganti ben fatti devo dire io credo di averne solo un paio acquistati da loro e di solito questi kit hanno un costo che oscilla tra le 100 euro e i 150 però rendetevi conto che andate ad esplorare un kit di Kit Bash 3D come tanti che vedremo significa per un 3D artist godere di una serie di risorse assai interessanti adesso qui caricheranno dei contenuti e vedrete voi stessi il che però significa che anche un 2D artist nell'ottica che vi dicevo prima può servirsene per costruire la propria scena anche solo con Photoshop nella sua componente 3D e in questo caso abbiamo uno sconto piuttosto interessante del 50% o meglio fino al 50% visto che come vediamo questa ad esempio ha solo il 35% di sconto dategli un'occhiata però perché se magari avete effettivamente la avete voglia di lanciarvi all'interno di questa commissione di generi chiamiamoli così 2D 3D Kit Bash 3D in effetti comunque potrebbe fare al caso vostro qui abbiamo proprio le digital art miste ibride un po' come volete oppure contenuti adatti ad esempio ai 3D artist dello stesso tipo My Mini Factory con la differenza che My Mini Factory presenta un sacco di roba di qualità ma la differenza la fa come in tanti altri casi vedremo il tipo di licenza già che My Mini Factory con sconti fino al 70% in effetti e anche se contiene degli ottimi file 3D in realtà diciamo che punta ad un mercato legato più alla stampa 3D non che i file che ci mette a disposizione non possano essere utilizzati in altri progetti semplicemente in rapporto al tipo di licenza e al costo di tanto in tanto potremmo effettivamente scoprire delle piccole tra virgolette limitazioni almeno questa è la mia esperienza dove ho adocchiato diverse realizzazioni veramente fighissime però poi mi sono accorto che per la licenza che ci metteva a disposizione il sito non potrebbero eventualmente non andare bene per le mie necessità per cui date un'occhiata alle licenze che ovviamente ogni tanto cambiano quindi magari rispetto a qualche mese fa quando volevo acquistare degli oggetti magari è cambiato qualcosa ci sta dategli un'occhiata perché comunque è un canale ricchissimo di prodotti di qualità davvero fighi da vedere altro software in questo caso altro software in realtà è il primo che vediamo ah no perché abbiamo citato Boris io mano a mano che arrivano le proposte le inserisco diciamo a seguire ecco perché sembrano disordinate semplicemente da venerdì scorso man mano che arrivavano li pubblicavo Daz 3D è un altro di quei software che in realtà fa cavo al mondo del 3D però spero di non dire una boiata è uno di quei software di supporto al 3D artist o al 2D artist prestato al mondo del 3D sempre senza pretese in ogni caso è un software di base gratuito con una serie di modelli strutture e don gratuiti il business di questo software lo si ha più che altro diciamo nel suo marketplace interno che ci mette a disposizione una serie di automatismi attraverso i quali generare personaggi soggetti ambientazione eccetera attenzione perché non si tratta di un software come Adobe Dimension è un po' più macchinoso ed è forse considerabile un vero e proprio software 3D anzi in effetti credo che valga come software 3D voglio dire anche se la base è gratuita non bisogna pensare che abbiamo davanti un giocattolo o un qualcosa di inutile poi un 3D artist pur ovviamente potrebbe descriverci che ne so Joseph Ciccariello Marsha Bazzueva che abbiamo conosciuto e tanti altri potrebbero ovviamente dirla loro e decidere di includere o escludere nel flusso di lavoro daz per tante buone ragioni ma siccome io non me ne intendo mi fermo in superficie con questo mio messaggio altro canale che utilizzo spesso è quello di CGTrader CGTrader è un marketplace all'interno del quale di tanto in tanto vado a pescare dei soggetti o degli oggetti 3D diciamo 3D nel formato BJ FBX e DAE da implementare all'interno del mio flusso di lavoro e devo essere onesto di tanto in tanto trovo delle chicche davvero stuzzicanti davvero interessanti dipende fondamentalmente da ciò che stiamo cercando però tutto sommato faccio anche vedere i miei acquisti non per tirarmelo che non c'è niente di cui tirarsela semplicemente però per far capire che voglio che si capisca che io realmente vi parlo di cose che utilizzo in modo tale che almeno possa motivare il mio punto di vista giusto o sbagliato che sia dentro questo canale ho trovato delle chicche che altrove effettivamente non ho ritrovato ecco in quella formula un paio di risorse poi fra l'altro sono state rimosse ma ormai diciamo ovviamente le ho acquistate e quindi dategli un'occhiata perché i suoi modelli valgono la pena di questi canali ce ne sono altri adesso ve li farò vedere canali ibridi canali totalmente votati al 3D ne ho messi tanti diversi perché ho notato che su tutti i marketplace votati interamente al 3D ci sono delle piccole differenze che però ne fanno diciamo trasformano le piattaforme in un qualcosa di peculiare per esempio c'è una di queste piattaforme non vi dico quale nel quale ho trovato parecchi oggetti 3D di natura sessuale in che senso di natura medico-sessuale ovviamente quindi organi genitali nudi eccetera eccetera il che non c'è niente di male anzi ovviamente in ambito diciamo nel mondo della medicina si utilizzano questi modelli eccetera quindi ben venga o è anche in ambito porno che non c'è niente di male però ecco ho notato per esempio che mentre in altri canali sono delle mosche bianche c'era uno di questi canali dove qualunque cosa digitassi per fare lo screenshot e mostrare l'anteprima del software su Pinterest dove ho una board che sto arricchendo con gli screenshot dei link dell'articolo di LinkedIn qualunque cosa cercassi mi saltava fuori qualcosa di particolare mettiamola così però scherzi a parte e ciascuna piattaforma ovviamente si porta dietro la sua community i suoi vantaggi le sue convenienze per chi pubblica gli elaborati ecco perché la diversità in questo caso genera una ricchezza nella proposta che vale la pena valutare andiamo avanti Fliphead Normal è un marketplace diciamo abbastanza trasversale che passa agevolmente dai contenuti 2D a quelli 3D passando anche attraverso Blender i plugin e pennelli per Photoshop qui dentro ci ho trovato parecchia roba mi piacciono molto queste piattaforme trasversali e proprio perché a mio avviso ecco nel mondo ad esempio della grafica e del web marketing e del web design vedi Invato Element lì abbiamo un kit di risorse complete per soddisfare un progetto dalla A alla Z in contesti simili volendosi concentrare solo su quella piattaforma abbiamo più o meno la stessa cosa in ambito digital art e vale la pena effettivamente quindi valutare laddove ad esempio queste piattaforme offrono un abbonamento la possibilità di aderire e rintracciare ciò che più ci può servire per soddisfare un fabbisogno professionale anche in prospettiva flip and normal quindi qui dentro troverete parecchia roba anche interessante molto molto caruccia stimolante ce ne accorgiamo anche dal tipo di proposta che arriva ma come dicevo prima fondamentalmente avete comunque asset 2D 3D pennelli strumenti addon tutorial c'è davvero di tutto in generale finito il marketplace finito scusatemi il black friday comunque nel canale troverete una sezione in sconto perenne dove ovviamente come fanno tanti canali artstation inclusa vanno comunque a girare costantemente tutta una serie di contenuti di proposte per esempio tanto per dire una sciocchezza magari un tutorial ecco un questo non so che cosa sia mp4 sarà tipo un tutorial eccetera per 10 dollari del tipo che piace a noi a cura degli artisti ecco a differenza permettetemi anche questa parentesi a differenza di canali generalisti come udemy domestica e simili probabilmente è nei canali di questo genere che determinati digital artist riescono ad esprimersi un po' meglio poiché non creano dei mini corsi canonici ma delle pille sotto forma di tutorial su file che magari a loro volta arrivendono dentro lo stesso marketplace quindi se non ci interessa un corso canonico un corso in lezioni modulare eccetera eccetera ma se siamo più interessati ad una proposta di tipo sottilmente differente con tutta probabilità quello che fa per noi è proprio sfruttare questo genere di proposte rispetto alle altre andiamo avanti Sketchfab parliamo ancora di 3D Sketchfab nota piattaforma a due corsie una gratuita community per utenti e l'altra è lo store sempre diciamo a disposizione degli utenti che però ha messo a disposizione tutta diciamo insomma una serie di contenuti e che di tanto in tanto rilascia anche parecchi diciamo ci offre parecchi regali dategli un'occhiata perché in ogni caso è una delle community più intriganti che fra l'altro ha una partnership in corso con Artstation o almeno ce l'aveva per la visualizzazione dei contenuti attraverso il suo player navigabile a 360 quindi diciamo che comunque non è esattamente una community buttata lì esiste da tempo e ha il suo perché passiamo a WWZX Store è sempre 3D sconto 50% con codice dedicato qui siamo in uno di quei canali dove il digital artist lavora a ottimi livelli e spiega comunque all'interno del suo canale quello che è il suo lavoro offrendoci a contempo tanto i tutorial quanto le risorse delle quali potremmo approfittare ovviamente è bene specificare che determinati autori prima di lanciarci nell'acquisto è banale ma è giusto dirlo sono magari specializzati in un titolo in un software che magari non abbiamo a disposizione ZBrush per utilizzarlo serve averlo sì esiste ZBrush Core Mini che è totalmente gratuito ZBrush Core Standard costa molto meno di ZBrush io ho la licenza di quello e serve a fare un minimo di sculpting digitale di buon livello senza arrivare ai livelli di ZBrush ZBrush è un'altra cosa acquistare un file per ZBrush già non va bene per ZBrush Core e sembra strano eppure funziona così bisogna fare molta attenzione ai software di cui ci dotiamo in licenza non si cracca niente il professore cracca investe e facendo attenzione al software che ci serve valutiamo eventualmente l'acquisto andiamo avanti TFM Style invece è un kit di natura un team di natura differente che ha lasciato la sua Cyber Week l'ho voluto inserire perché in realtà mi è arrivato dal feed di Twitter dalla playlist dedicata a Black Friday però andando a vedere cosa proponeva al di là del sito che oggettivamente sembra veramente un sito mezzo scrauso è brutto a vedersi non c'è niente da dire però le risorse che promuovono che passano anche da Gumroad non sono affatto malaccio quindi ci sono delle chicche sempre chicche da professionista 3D ma vale la pena dargli un'occhiata passiamo invece a un altro software Marmoset Toolbug che è un motore di rendering che molti conosceranno fa spesso diciamo capolino all'interno dei progetti pubblicati su ArtStation ed è sostanzialmente una software house che ci offre questo motore di rendering che da quello che ho visto è molto ben gradito ai 3D artist in generale abbiamo l'offerta di lancio per la versione 4 quindi non è esattamente un Black Friday ma è stato lanciato in contemporanea quindi l'ho considerato come un ammiccamento al genere e per 5 giorni sconto al 15% e visto che ci siamo vi ricordo che dentro il sito di Marmoset trovate anche un ottimo software per chi è appassionato di grafica isometrica un software vettoriale che si chiama Excel che devo essere onesto è molto carino io lo utilizzo da diversi anni l'avevo acquistato con la versione 2 siamo alla versione 3 e vi garantisco che c'è da divertirsi è un software vettoriale interagisce tranquillamente con Illustrator e Sport formato SVG EPS addirittura Illustrator ha una bella interfaccia pratico e veloce da utilizzare ed è molto molto divertente e stimolante dategli un'occhiata non è in offerta che io sappia infatti ancora al suo costo di base ma chissà magari comunque da qui al Cyber Monday che si concluderà diciamo più o meno intorno al 5-6 dicembre in media potrebbe saltar fuori qualcosa parliamo adesso invece di video con tre livelli diversi se parliamo di video parliamo di diversi ruoli professionali che possono aver voglia di includere questo tipo di proposte tra le loro librerie attenzione ad un aspetto ovviamente questo tipo di offerta potrebbe anche far gola ai vlogger o a chi si occupa di post-produzione a diversi livelli bisogna ovviamente valutare non solo il costo ma il rapporto tra la natura del kit per esempio in questo caso STV Motion ci offre dei kit già predisposti con il loop nelle animazioni quindi probabilmente per chi si occupa di video-produzione per VJ come da qualche anno sto facendo anch'io potrebbe essere effettivamente più utile un canale come questo che non action VFX produzione di alto livello Black Friday sta per arrivare produzione di alto livello anzi post-produzione di alto livello con una serie diciamo di effetti visivi di varia natura che arricchiscono ecco la nostra elaborazione professionale a diversi livelli chiaramente i costi man mano che salgono rappresentano anche un livello qualitativo differente però ribadisco non tutto va acquistato subito ma è sempre bene avere sotto mano una serie di link di proposte diciamo da poter sfruttare in modo tale che nel momento in cui il cliente ce lo richiede noi siamo già pronti e non dovreste chissà cosa serve anche a farci banalmente un'idea di quello che eventualmente potremmo decidere di offrire al nostro committente ecco mi muovo un attimino perché con quell'inquadratura mi fa la panza e io non ho la panza assolutamente sono diversamente magro come diceva un mio amico e chi se ne frega e lens distortion questo effettivamente ce l'avevo in archivio me l'ero perso poi l'ho ritrovato per puro caso qui siamo veramente ad altissimi livelli almeno me l'avevano segnalato come tale ho esplorato il sito e dal sito una bellissima copertina per i suoi prodotti mi sono accorto che effettivamente abbiamo a che fare con un marketplace di livello differente rispetto a quelli che solitamente utilizzo io dentro questo canale trovate sia l'abbonamento diciamo la classica sottoscrizione annuale in sconto attualmente sia i singoli pack legati di nuovo alla postproduzione però qui ovviamente il costo che osserviamo che non è assolutamente come posso dire esagerato per la qualità dei contenuti che abbiamo palesa effettivamente una predisposizione proprio al mondo del cinema della pubblicità dei corti eccetera quindi chi fa un certo tipo di lavoro probabilmente conosce da più tempo e meglio di me questo canale io però l'ho intercettato mi piace molto vedere la loro proposta e di conseguenza ve lo segnalo ancora ah ovviamente vi ho messo vi ho detto di fare attenzione anche alle licenze questo perché allora io personalmente per quanto riguarda i file video oltre a quelli di invato a quelli che acquisto singolarmente o tramite invato element sto per attivare il mio abbonamento su artgrid.io questo canale che ha un equivalente sul fronte audio quello quell'abbonamento lì ce l'ho costante da quando è uscito in sostanza ha di buono non solo diciamo la quantità e qualità dei video ma il tipo di licenza il modello di business di questa piattaforma vi garantisce una licenza perpetua su tutto ciò che andate ad acquistare di conseguenza chi fa un lavoro in ambito video sicuramente potrà godere di un abbonamento di questo generare una ricca libreria di risorse e campare di rendita creandosi tutti i video creativi che vuole con una spesa che effettivamente diciamo è rapportata assolutamente alla quantità e anche alla qualità dei contenuti visivi siamo ancora sui livelli medi cioè nel senso che in termini di costi questo è il tipico canale ad accesso medio lens distortion già siamo a livello medio alto e poi ci sono ovviamente anche livelli maggiori però per chi magari vuole diciamo trasformare la propria figura professionale in questo periodo in tanti lo stanno facendo potrebbe essere una buona idea servirsi di quel canale passiamo all'audio dopo il video premium bit ha una sua offerta con un abbonamento a sottoscrizione quindi abbiamo 5 brani ogni mese a 12 dollari e 99 e secondo me sono un costo assolutamente adatto io personalmente visto che ci siamo mi segnalo invece quello che utilizzo io artlist.io che è l'equivalente di artgrid solo per file audio ed sfx più o meno 200 euro l'anno in sconto ogni tanto anche di meno attualmente non c'è un black friday attivo probabilmente verso natale qualche cosina potrebbe arrivare e qui abbiamo effettivamente brani di alto livello con un tipo di licenza che vi permette effettivamente di esprimervi in ogni direzione possibile e c'è un catalogo parecchio ricco e variegato vi assicuro che comunque è un ottimo canale da professionisti oggetti 3d ancora ecco il marketplace di oleg vattelappes che in realtà io diciamo che questo signore lo conosco da anni ho attinto da lui ho acquistato veramente la qualunque un po' su cg trader un po' su artstation un po' su gumroad comunque tutti i suoi kit sono qualcosa di spettacolare più che altro perché in rapporto al costo vi da lire di dio di oggetti ed è veramente divertente utilizzarli ideali ad esempio per adobe dimension perché il modo in cui sono gestiti è sufficientemente semplice per non sovraccaricare la memoria gestionale insomma del software e soprattutto c'è una varietà di elementi che vi permette ovviamente diciamo relativamente al genere che lui tratta di spaziare in ambito creativo dategli un'occhiata perché nelle sue proposte comunque trovate veramente tante chicche interessanti ancora questo è un canale che non conosco ma che mi hanno segnalato diciamo mi è arrivato in rete come segnalazione direttamente da shutterstock come canale consigliato gli ho dato un'occhiata e ho capito a che cosa si riferiva questo è un canale per 3D artist che vi propone comunque delle texture diciamo di tipo avanzato fotorealistico e che servono ovviamente soprattutto a chi magari produce contenuti 3D materiali 3D o comunque proposte legate a substance design il quale vive proprio di questo genere di contenuti in ogni caso anche se in quel caso magari ce lo facciamo noi con substance design ma il concetto di fondo è avere un'opportunità di dare un'occhiata anche a questo genere di formato che di tanto in tanto fa capolino anche su Adobe Dimension in un certo tipo di formato infine altri modelli 3D su 3D export che è un marketplace come quelli precedenti che ho citato e anche in questo caso abbiamo un bel Black Friday che potrebbe essere piuttosto intrigante e all'interno di questo canale oltre ad una serie di modelli sfiziosi abbiamo anche una categoria dedicata ai modelli low poly per non sovraccaricare diciamo quella che è la struttura del nostro anzi per non sovraccaricare ecco la potenza di calcolo del nostro software alle volte magari produciamo in low poly e poi giochiamo di post produzione contiene anche dei tutorial 3D dategli un'occhiata perché in effetti ho dato un'occhiata me l'ha segnalato oggi l'amico Evan e ho visto delle cosette interessanti non lo conoscevo questo canale devo essere sincero ma in mezzo ai tanti preferiti non si può conoscere tutto per questo c'è una lista come quella che ho messo su LinkedIn che con il vostro aiuto sta crescendo sempre di più passiamo adesso invece ai add-on plugin ed extension ovvero tutte quelle inclusioni ai nostri software di fiducia che ci permettono di velocizzare tantissime tantissime porzioni del nostro lavoro in tante direzioni differente il primo che vi segnalo non è ancora in sconto però ha solitamente degli sconti bundle all'interno del suo canale la cosa curiosa è questa questo Anastasi genera dei pannelli per Photoshop e anche per altri software adesso non ricordo Photoshop Illustrator si chiusto Photoshop Illustrator ed esiste dal 2008 io l'ho scoperto casualmente qualche mese fa e ho preso un paio di bundle e che cosa sono che fra l'altro sono in offerta sto vedendo adesso quindi il prezzo è sceso e che cosa ho scoperto che quando c'è stato l'Adobe Max proprio Anastasi era praticamente tra le risorse consigliate per scaricare l'extension manager di Adobe da utilizzare nell'ottica di una serie di novità che avevano annunciato curiosamente in mezzo ai tanti pannelli per gestire le estensioni dei software Adobe hanno indicato proprio Anastasi i suoi pannelli implementano Photoshop con una serie di risorse carine per esempio io se non ricordo male ho preso proprio questo il quale prevede ad esempio la possibilità di miscelare i colori come si fa su Corel Painter di crearsi una mood board in un pannello a parte dentro Photoshop di creare delle reference e delle annotazioni avanzate ci sono un po' di funzionalità piuttosto carine vale la pena dargli un'occhiata anche perché all'interno ovviamente del sito scoprirete poi a che cosa servono le varie estensioni e visto che io un po' per lavoro un po' per mestiere un po' per utilità di estensioni comunque ne utilizzo ne mastico sempre tantissime farò una serie di webinar dove vi racconterò una per una perché ce ne sono molti che ho scoperto che ignoravano estensioni fighissime oltre queste però nel frattempo dategli un'occhiata perché potrebbe essere carina comunque un acquisto carino visto diciamo insomma la sua utilità altra estensione fighissima questa l'acquisterò appena parte il Black Friday The Logo Package questo The Logo Package a suo tempo se non ricordo male me lo segnalarono o Patrizia dei Pirati Grafici o Flavio Lisi quando insomma a suo tempo lavoravamo sul 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 Bianz Portfolio Review di Roma a sua volta credo che ne aveva parlato come l'aveva segnalato anche oddio mi sfugge il nome Gesù che figura mi sfugge il nome perdonami Maurizio ma mi sfugge il cognome il quale praticamente con i Pirati Grafici aveva organizzato due brand tour non mi ricordo manco come si chiama l'evento comunque durante quell'evento siccome si parlava di logo design forse da una chiacchia Flavio e me o lui Patrizia non lo so comunque da lì è uscito fuori sto coso che cos'è questo tool cercavo di dare merito al merito ma Pagnozzi Maurizio Pagnozzi ecco Pagnozzi ora mi viene in mente Pagnozzi quindi uno di tre o tutte e tre assieme Patrizia Pagnozzi e Flavio Lisi Patrizia dei Pirati Pagnozzi e Maurizio Pagnozzi Flavio Lisi che pure lui comunque fa un sacco di cose interessanti uno di loro tre mi ha segnalato questo titolo e da allora l'ho diciamo insomma ad occhiato la cosa carina di questo software è che automatizza una serie di passaggi destinati comunque all'ottimizzazione e all'organizzazione dei nostri progetti in chiave logo design quindi tutta quell'attività macchinosa come quella che sto facendo in questo momento e però la consegna stasera quindi devo farla a mano tutta quell'attività macchinosa di andare a generare gli artboard dentro Illustrator organizzando i vari formati per con tutte le risoluzioni tutte le estensioni e in questo caso se ne occupa logo package express aggiungendo anche un paio di feature intriganti siccome dovrebbe uscire uno sconto del non mi ricordo di quanto 40% free 40 sarà 40% aspettiamo che effettivamente arrivi e a quel punto insomma ci accaparreremo questa bella risorsa professionale molto apprezzata online passiamo invece ad after effect utilizzo after effect con mucho gusto e tra qualche giorno parterà il cyber monday dentro questo canale ae script e plugin trovate una marea di risorse plugin di ogni genere per after effect e parecchia roba anche per cinema 4d ogni addon plugin automatismo di cui potreste aver bisogno lo trovate qui io qui dentro spesso ci faccio una spesa una spesa a testa bassa che mi porta avanti poi nel tempo in 100 modi diversi vi garantisco che comunque è un'ottima risorsa ha anche il suo pannello di controllo per tenere aggiornate le risorse in parallelo ad after effect dategli un'occhiata nel momento in cui scatta il cyber monday perché da quello che ho capito tutto se è vero quello che c'è scritto dovrebbe essere in sconto io ho già messo nella wishlist un paio di titoli piuttosto interessanti quindi se dovete lavorare con after effect e soprattutto automatizzare una serie di passaggi macchinosi after effect è potentissimo è fighissimo però su certe cose è veramente comunque devastante quando dobbiamo costruire dei progetti da zero eccetera ecco ci aiutano tutti questi addon che includono una serie comunque di figate non da poco qui vedo stardust un plugin che ho comprato anch'io un annetto mezzo fa adesso non mi ricordo e questo genere di strumenti trasformano il vostro after effect in uno strumento cinematografico veramente nonché di produzione veramente interessante visto che parliamo di after effect vi segnalo mi sono arrivati vi segnalo anche i corsi in sconto di una entità online dedicata all'e-learning che va forte proprio sulla motion graphic questo motion design school i cui corsi normalmente costicchiano però effettivamente oltre ad aver visto cose belle ne ho un feedback sufficientemente positivo sono totalmente in inglese e quindi ovviamente questo è l'unico tra virgolette deficit se non si conosce l'inglese guide guide altro add-on per photoshop illustrato sketch e di recente anche adobe xd un ottimo tool il quale praticamente trasforma l'uso delle guide nei nostri software in uno in un punto di forza della progettazione visiva se vi piace utilizzare le guide vi piace la perfezione vi piace stare attenti quando progettate quindi utilizzare ecco uno strumento prezioso per garantire ai vostri elaborati un certo ritmo visivo e quella precisione qui sopra accennavo guide guide fa per voi di solito durante il black friday è in offerta con sottoscrizione annuale però non è ancora attivato scusate mi stavo zittendo perché sentivo urlare la televisione della vecchina di sopra che è così caruccia ad alzare il volume a palla della sua televisione così lo sentiamo io e tutto il quartiere quindi insomma questo è altruismo allo stato puro niente stavo dicendo non c'è ancora nulla in attivo in termini di sconto magari qualcuno insomma produrrà più avanti il proprio sconto poi arriviamo a Mike's Reda questo dizio produce un sacco di add-on fighissimi soprattutto per il fatto che sono legati a photoshop e automatizzano una serie di animazioni che vanno ben oltre i classici strumenti alla pixel loop per capirci dove poter generare delle sorti di cinemagraph all'interno di photoshop con qualunque tipo di risorsa vi garantisco che la resta e soprattutto perché le animazioni vanno in direzioni assai diverse questo per esempio è image motion ma lui ha anche vigor motion e animator i due sono in offerta e anche altri pannelli in offerta che non ricordo se è felare eccetera dategli un'occhiata perché al suo interno trovate comunque delle chicche l'ho già utilizzato questo termine però è davvero così non si tratta ovviamente di software come posso dire di quelli definitivi che quando li acquistate avete svoltato si tratta però di un ausilio importante e prezioso per eliminare determinati passaggi ad esempio io prima tutte le storie animate le gestivo con After Effects con questo tipo di pannello come poi farò vedere nei webinar invece ho iniziato diciamo a produrre il necessario direttamente dentro Photoshop laddove sviluppavo la mia digital art quindi era anche normale utilizzare un'animazione semplice perché parliamo di stories quindi 9 secondi la media che diciamo si utilizza anziché prendere il tutto passare lo software effect ricostruire l'animazione inserire add-on transizioni questo e quell'altro faccio tutto direttamente in Photoshop con 4 clic in croce e ho svoltato TTTT questa me l'hanno chiesta e accetto volentieri insomma anche il suggerimento e questo Retouch Pro è un pannello di controllo per Photoshop aggiornato alla versione 2021 e che in pratica diciamo automatizza tutta una serie di passaggi e strumenti e li ottimizza per quelli che magari hanno davvero tanto lavoro da fare alle prese con il fotoritocco in realtà il fotoritocco qualcuno potrebbe dirmi viene fatto a mano con Photoshop benissimo io dico sì è vero però questi pannelli come dico sempre potrebbero aiutarci eventualmente a velocizzare determinati passaggi tutto qui in alcuni casi visto che ormai con la versione 2021 sappiamo che l'intelligenza artificiale effettivamente ormai è parte in causa del nostro lavoro dobbiamo metterci in testa che questi automatismi queste applicazioni rapide di una serie di passaggi saranno sempre più parte integrante del nostro flusso lavorativo quindi va la pena mettersi in testa che azioni plug-in e don di ogni genere e intelligenza artificiale in estate nei vari software comunque sono il futuro di riferimento del nostro modo di lavorare sul quale poi ci soffermeremo un po' di più in un'altra occasione software stand alone ovviamente adobe non l'ho messa neanche per prima perché è chiaro che ovviamente adobe andava a offrirci qualche cosina per carità tuttanto offerte importanti sono degli standard eccetera solo che era talmente scontato che avrebbero pubblicato uno sconto perdonate il gioco di parole che non l'ho voluto mettere in risalto all'interno dell'home page sconti per vari software vari titoli sconti per varie tipologie quindi educational docenti business eccetera eccetera scegliete quello che è il vostro piano software scegliete la spesa e buon divertimento andiamo avanti escape motion escape motion è una software house intrigantissima io la utilizzo tantissimo ho tutti e quattro i suoi software e non me ne pento assolutamente ed è in pratica diciamo una software house che mette in sconto i suoi software di punta che in realtà li mette in sconto tutte e quattro e in più ci da anche ci omaggia di una serie di add-on che troviamo all'interno del sito che cosa fanno i suoi software rebel è il software per il digital painting di natura realistica ovvero ci permette di generare illustrazioni eccetera eccetera simulandole all'interno del software con tanto di sistema di gravità e comportamento fotorealistico dei pennelli della miscelanza della mescolanza dei colori in un'interfaccia abbastanza semplice e intuitiva anche se a me su tutti i mac dove l'ho provato praticamente mese in palla da morire probabilmente dovrei ottimizzare un pochettino però ci si può lavorare tranquillamente quindi vale la pena dargli un'occhiata è anche vero che io insomma tendo a forzare ogni software quindi insomma il mio commento deve essere preso più come una burla che come una cosa diciamo attendibile ecco flame painter 4 software diciamo molto intrigante che ci permette di disegnare quindi meglio utilizzarlo con una tavoletta grafica con una serie di pennelli estremamente stuzzicanti e creativi di natura assai differente da quelli a cui siamo abituati su photoshop e simili dentro flame painter voi potete disegnare con la luce con strumenti particolari in vettoriale e non potete creare il vostro pennello potete generare veramente la qualunque anche interagendo con photoshop visto che è dotato di un plugin che fa da ponte e vi permette di switchare da photoshop a flame painter e ritorno in maniera abbastanza rapida al fine magari di costruire la vostra scena con questo tipo di pannelli materici che possono essere personalizzati da cima a fondo amber light software generativo dedicato ai frattali di un certo genere veramente sfizioso con animazioni incluse vi permette di costruire quelle animazioni mesmeriche che tante volte troviamo all'interno di instagram e canali dedicate vale la pena dargli un'occhiata io mi ci diverto come un pazzo in spirit siamo sempre sulla stessa fazzarica questa volta però è più un software passatemi l'espressione giocattolo ovvero si può utilizzare tranquillamente per costruzioni visive professionali però diciamo che qui siamo ecco come anticipa il video su una produzione più legata a un genere sempre mesmerico quindi anche mandala kaleidoscope eccetera eccetera animato e non personalizzabile dove siamo noi a disegnare è un po' come quei software come il silk che abbiamo visto tante volte per ipad e tablet che trovate anche online il suo perché io onestamente lo utilizzo di tanto in tanto quando devo creare dei background particolari per i vj che magari mi richiedono oltre ai video creativi in sync con la loro musica oggetti di sfondo che magari si alternino tra un brano e l'altro e mi diverto insomma in questo modo prima o poi riuscirò ad aggiornare il mio portfolio vi farò vedere anche queste cose passiamo ad astute graphic che ha annunciato per domani eccolo questo è fresco di oggi pomeriggio lo suo sconto ed è anche bello che l'abbia annunciato adesso visto che appena un mese fa ho attivato la mia licenza non è già a me però mi serviva in quel momento per un videocorso che dovevo realizzare e pazienza comunque astute graphic non ha bisogno di presentazioni e diciamo l'entità il leader anzi la leader la software house leader per quanto riguarda i plugin di illustrator la sua offerta è molto interessante a livello gratuito di recente è stato anche inserito mirror me uno dei plugin più fighi per illustrator ma diciamo che la sua suite dovrebbe soddisfare più o meno tutti i digital artist amanti come me del mondo vettoriale dategli un'occhiata segue a ruota sketch purtroppo ancora il software sketch diciamo non ha ancora pubblicato nessun tipo di offerta invece abbiamo Corel Painter che ogni tanto insomma tira sulla testa e ci propone propone la sua nicchia di mercato in realtà non sarà neanche tanto nicchia per mantenere attiva comunque in uscita il New Painter 2021 con un Black Friday in sconto che vedete in sovraimpressione sempre della Corel per quelli che magari non hanno intenzione di acquistare Flame Painter potrei segnalarvi questo particle shop esattamente la stessa cosa di Flame Painter con la differenza che però qui dentro siamo dentro Photoshop e oltre al software di base che annovera una serie di plugin scusate una serie di pennelli creativi da introdurre all'interno di Photoshop ci mette a disposizione nel suo marketplace tanti altri plugin e tanti altri pennelli integrativi qual è la differenza tra questo software Flame Painter e altri pennelli simili il fatto che questi pennelli sono dei pennelli essenzialmente generativi ovvero vengono ricostruiti diciamo dal software di turno man mano che disegniamo quindi non sono dei pennelli statici piuttosto dei pennelli dinamici molto somigliante e proprio dedicato a quel genere con particle shop plugin in effetti abbiamo la possibilità insomma di lavorare comunque ad un livello creativo interno a Photoshop i suoi set di pennelli sono veramente diciamo carini ben fatti bisogna valutare ovviamente tra questo il precedente ed eventualmente l'opportunità di acquistarli o meno riceve il segnalo fan di designer impaginazione dinamiche ho pensato ad inserirlo non solo perché è interessante ma perché magari può essere un naturale compendio ad alcune figure professionali che hanno una scarsa cattivo o volontaria mancata predisposizione a software di impaginazione come il design e ci sta non tutti dobbiamo saper fare tutto in questo caso diciamo che questo tipo di software non solo ci aiuta all'impaginato ma da quello che ho letto non lo conosco me l'hanno segnalato credo che sia ottimo soprattutto in un flusso di lavoro poi destinato alla stampa o alla vendita di determinati contenuti guardate bene che non è una sciocchezzuola ciò che fa questo software poiché se andate a vedere il video fondamentalmente che cosa fa vi permette di automatizzare l'impaginazione di più contenuti nel layout scegliendo più o meno come fa pinterest con il caricamento dei pin multipli per quelli di voi che sanno di cosa farlo io posso organizzare i contenuti all'interno della mia scena in maniera molto più dinamica senza diventare scemo dietro praticamente al layout gabbie riposizionamento ciao giovanni quindi dategli un'occhiata e non prendetela sotto gamba perché secondo me potrebbe interessare a diversi affiniti finalmente è arrivato anche lo sconto di affiniti la più nota alternativa al mondo adobe che come probabilmente anche le parti sanno oggi oltre a foto e designer equivalente di photoshop e illustrator annoverà anche l'equivalente di indesign publisher quindi abbiamo un ecosistema completo che comunque interagisce alla grande con il mondo adobe in sconto diciamo ogni titolo all'interno del suo sito insieme al marketplace interno e una serie di risorse comprese anche guida insomma c'è veramente di tutto di più e dategli un'occhiata perché fra l'altro diciamo che ecco come ci ricorda Affinity essendo un'app nata diciamo all'interno del mondo Apple in effetti è già tutto predisposto per l'avvento della nuova generazione di Mac di cui si è sentito parlare di recente visto che sembra rivoluzioneranno il mercato se ok andiamo avanti Clip Studio Paint Clip Studio Paint la volta siamo sul front disegnatore illustratori questo software la prima volta me lo fece conoscere me ne fece innamorare vediamo se ma perché io per i nomi ho questa avversione Claudio Claudio Lodi Claudio Lodi durante diciamo una sessione un evento eccetera mentre stava diciamo svolgendosi sviluppandosi all'interno dell'evento il relatore che parlava bla 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 e mi sono avvicinato al mitico Claudio Lodi che è un'istituzione nazionale forzando in gambissima bravissimo e che lavorava con un paio di software in quattro parole mi ha fatto innamorare e comprare Clip Studio Paint ma Miss Shift che neanche so se esiste ancora veramente Miss Shift e Autodesk Sketchbook li ho comprati tutti e tre poi Miss Shift è diventato gratuito dopo che l'ho comprato io Autodesk Sketchbook è diventato gratuito dopo che l'ho comprato io non si chiamava Miss Shift e e questo qui Clip Studio Paint è rimasto a pagamento perché comunque è una bomba come software molto bello e e niente mi è rimasta la licenza e che adesso in sconto ve lo segnalo quindi se prossimamente dovete acquistare un software e volete sapere se vale la pena acquistarlo chiedetemi se sto per comprarlo io perché ogni volta che compro qualcosa un mese dopo diventa gratuito viene comprato da Adobe e assorbito altrove e quindi siamo tutti contenti tranne me questo è il software infatti mi ricordavo che l'avevano tipo sospeso chiuso non mi ricordo eeeh non so se ancora si può scaricare comunque era un software di disegno che simulava mi piaceva molto perché simulava la matita in maniera particolare per il mio stile era l'ideale comunque eh appunto Giovanni appunto guarda te lo dico The Logo Designer quello per fare i loghi che ho citato prima allora poi eeeh l'amico Evan stasera mi ha segnalato anche un software che tempo addietro ho comprato con licenza educational e poi avevo messo da parte e ho iniziato a lavorare un po' più su di più su ZBrush Core eeeh in sostanza è un equivalente di ZBrush non se ne abbiano a male i 3D artist l'ho detto che sono non sono un 3D artist quindi se dico qualche fesseria correggetemi nei commenti voluta insomma volontario fatelo ecco ve lo chiedo io perché magari ho detto una sciocchezza comunque da quello che io so 3D COT è l'equivalente di ZBrush un competitor di ZBrush e per qualche tempo in realtà mi era sembrato essere messo da parte ultimamente invece nei vari marketplace ho iniziato a notare molti autori che pubblicavano file risorse predisposte per 3D COT e strumenti e pppp tavolette graphic e le abbiamo ne abbiamo diverse in sconto oltre a quegli sconti su Amazon li ho inseriti perché ovviamente sono a tema e ve le metto tutte e tre qui tre offerte di natura diversa abbiamo la Huion che ci offre un Black Friday dedicato praticamente alle sue tavolette la particolarità della Huion è che ne ha di ogni sorta di dimensioni tranne triangolari poi trovate qualunque forma qualunque tipo con schermo senza schermo lavabile tutto il resto la mia prossima tavoletta comunque probabilmente sarà una Huion a meno che la Huion ok dovrei essere tornato ok dovrei vediamo se è vero se sto trasmettendo vediamo un attimo essere tornato online sì direi di sì ok mi sentite mi sentite mi sentite mi sentite vediamo un attimo maledizione 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 Jesus Christ Superstar ok forse adesso mi sentite non lo so non lo so ma porca miseria non lo so ok ok vediamo un attimino grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo se ha ripreso la linea. Grazie a tutti. 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 seguite a tutti. Grazie 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 a tutti. uno per uno. ciascuno di tutti. autori potrebbe. per riservare per riservare. Ritorniamo in ambito. web design. web design. web design. web design. web design. web marketing. Eccetera eccetera eccetera. Mi hanno anche segnalato questo pixel. che ho inserito per ricordare a tutti i creativi che tante volte magari non hanno il tempo di crearsi un buon portfolio online che oltre a poter aderire all'iniziativa di Adobe con la sua versione del portfolio premium e oltre a trovare 500px e tantissime piattaforme che ci offrono strumenti. smag mag eccetera per creare il nostro portfolio online c'è anche questo pixel che comunque uno di quelli che ha un costo di accesso assolutamente utile quando servono queste piattaforme soprattutto quelle che hanno la formula mese per mese ci possono far comodo quando abbiamo un'urgenza di creare un portfolio per n ragioni e magari di tenerlo lì attivo velocemente solo per qualche mese mentre nel frattempo costruiamo il nostro sito quindi da considerare. Su Cube Brush comunque è presente uno sconto massiccio all'interno della piattaforma su tutto ciò che andiamo eventualmente ad acquistare. L'ho citato prima insieme ad ArtStation che tante volte mi sentite nominare. Poi passiamo a MattePaint quindi per i digital artist appassionati di environment, digital painting, post produzione eccetera MattePaint è diventato comunque una bella risorsa che ha via via implementato risorse di varia natura. Diciamo che alla pari di ArtStation come si dice a Napoli tra sito i SIC e 6 mesi i GAT cioè si è entrato con poco magari in maniera anche semplice e sembrava una offerta come gli altri invece è cresciuto parecchio ed è diventata una bella community molto interessante che spesso come ArtStation rilascia iniziative diciamo delle challenge, materiali e un marketplace interno per arricchire il proprio lavoro. E vale la pena seguirla anche al solito per valutare l'orientamento e le tendenze all'interno di questo segmento professionale. Fotobash idem con patate nato attraverso Gumroad si è poi sviluppato e di recente ha aperto la nuova versione del sito che include anche dei kit assolutamente a costo accessibile è uno dei canali dove con poco prendi l'ire di dio e include anche oggetti 3D. Di recente ha introdotto anche i modelli 3D all'interno della sua offerta, scusate mi soffi il naso e vediamo se magari un giorno caricherà, magari prima che finisca il Black Friday del Cyber Monday, in ogni caso comunque dategli un'occhiata direttamente da voi oppure godetevi questo spazio bianco e la protellina che gira e lasciate che l'ispirazione dell'universo venga a voi. Non so che cacchio inventarmi con la schermata bianca. Vimeo, anche lui, anche lei, non so come lei di attaforma, lui come brand ci offre uno sconto sugli abbonamenti che nel caso del premium diciamo ci rimettono, ci danno in omaggio anche questa telecamerina piuttosto sfiziosa e carina. Ha delle feature interessanti, la sto valutando a parte gli abbonamenti. Prossimamente per Atlantis Learning utilizzerò gli abbonamenti di Vimeo quindi molto probabilmente usufrirò anch'io di questo sconto. Ricordiamoci che Vimeo non è semplicemente un equivalente di YouTube, ovvero una piattaforma per ospitare i nostri video, ma è uno strumento professionale per i professionisti di immagini e video che hanno effettivamente bisogno di strumenti in più. Che fra l'altro nelle versioni ad abbonamento premium e business, il cui costo non deve spaventare, comprende tantissima altra roba. Il costo non deve spaventare perché dentro questo prezzo in realtà è incluso comunque un'offerta estremamente eterogenea e professionale permettendoci di non doverci dotare di altre piattaforme. Quindi risparmiamo su altri fonti e con un unico costo che nella totalità è minore del costo delle singole altre piattaforme, potremmo trovarci con un alleato prezioso nella nostra strategia di diffusione dei contenuti. Xmind, il software che mi vedete utilizzare costantemente per 48 ore in offerta a 9,99 per un anno, per cui vale la pena andare a valutare eventualmente il... Scusate, non 9,99, 59,99, che ho scritto? 9,99 qua. Eh no, mi sono sbagliato, però il loro teaser su Twitter è da quello. Ho letto male, ah no, perché sono giustamente no, sono loggato con il mio account e quindi siccome il mio account è già registrato non posso usufruire del, diciamo, di questo bonus. Per i nuovi account Xmind ha messo il primo anno a 9,99, dategli un'occhiata. Altra offerta, diciamo, interessante, altro tool per webmarketer, Gero, è fondamentalmente, diciamo, un altro software basato sulle mind map, però questa volta, un po' più dinamico e organizzativo, in effetti, diciamo, è votato al funnel marketing e alla progettazione di flussi di navigazione o alla progettazione strategica di pagine web e affini. A me, insomma, serve parecchio sia nei corsi di webmarketing, sia quando progetto io stesso strategie in chiave funnel e, devo essere onesto, insomma, è stato un bel acquisto. Passando al mondo 3D e cinema 4D, è arrivata oggi anche l'offerta di Grayscale Gorilla, che, comunque, è, insomma, un canale di buon livello. Chi fa 3D, chi lavora con cinema 4D, qui dentro può trovare soddisfazione davvero, comunque, trasversale. Siamo sulla chiusura. Case editrici, la 3D Total presenta i suoi sconti in chiave Black Friday e, comunque, si dota di una sezione free ricca di contenuti da scaricare. Molti dei libri creativi che ho nella mia libreria li ho presi proprio da 3D Total. Comunque, la trovate anche attiva su Kickstarter, dove lancia spesso prodotti interessanti. Proprio oggi ho aderito ad un nuovo, un libro gallery, praticamente, su...